Buongiorno, mi è consentito sapere dove siete diretti. Sto accompagnando la mia nipotina a trovare la sua adorata nonna. Lo vuoi sapere un segreto? Oh sì. In questo luogo eterno ogni cosa è possibile. Andiamo bene. Allora, all'alento, all'alento, all'alento. Diretti tu. Che facciamo? Sì, Mario. Ne ho contati 25. Ma dovete pagare per 26. Siete troppo brava a fare i vostri interessi? Tutti i ragazzetti del suo paese che poteva ammazzare. Scegliere proprio il figlio di quella. Quella è una potenza. Allora? È in parlatorio. Evidentemente ha cambiato idea. È un ragazzo molto speciale. Hai perfettamente ragione. Il dolore fa uscire fuori la parte peggiore di noi. Sì. Io... Sì. L'operaio della Valier se ne è aggredito nella notte. Era già stato oggetto di attacchi razzisti nel giorni scorsi. Già, ma no scherziamo, non è colpa nostra. E quando è colpa nostra, eh? No, dimmelo. Spiegamelo. Quando cazzo è colpa nostra? Noi diffondiamo notizie false per far incazzare la gente e poi la gente si incazza. E non è colpa nostra. Tu non sei mai stata questa roba qua? Manda un tweet. Prendi le distanze. Distinguiti. Pur trattandosi a tutti gli effetti di un intervento chirurgico, alcuni casi viene eseguito in anestesia locale. Tutto ciò che viene fatto con il cuore ha un grande valore, Poli. Grazie. Siediti. Io non posso unirmi in preghiera. Sono una peccatrice. Non siamo noi a decidere chi può e chi non può pregare. Cristo chiama. Noi rispondiamo. O facciamo finta di non ascoltarla la sua di voce. Noi rispondiamo. Noi rispondiamo. Noi rispondiamo. Noi rispondiamo. Noi rispondiamo. Grazie a tutti.